oggi introduciamo gli smart contract e che cosa sono innanzitutto non tutte le block cene possono eseguire smart contract la prima block cene che ha avuto la capacità ea tuttora di sviluppare smart contract è la block cene di tirum lo smart contract è un intermediario digitale che va a garantire la fiducia tra più parti in gioco immaginiamo di voler acquistare un appartamento tra noi che siamo gli acquirenti e il venditore c'è un intermediario che va a garantire la fiducia tra le parti ovvero un notaio ma questo notaio sulla block cene può essere sostituito tranquillamente da uno smart contract e gli smart contract sono la vera rivoluzione della block cene ovvero la capacità di garantire fiducia trasparenza eliminando ogni intermediario e tirion come la conosciamo è la prima blog cene che offre la possibilità della programmabilità ovvero sulla blog cene di tirum tramite un linguaggio specifico che si chiama soliditi chiunque che ha la conoscenza di questo linguaggio può sviluppare uno smart contract negli anni si sono susseguite diverse blog cene con capacità di creare smart contract e anche con capacità di utilizzare dei linguaggi prettamente più user friendly per poter permettere a più persone più utenti di riuscire a programmare degli smart contract il termine smart contract in realtà non è che sia molto appropriato perché di smart in realtà non ha nulla perché questo smart contract non è nient'altro che un programma scritto caricato sulla blog cene con un input e un output che si attiva al verificarsi di determinate condizioni e serve per l'appunto a creare degli automatismi senza che ci sia bisogno necessariamente di una terza parte di un intermediario attivo una volta lanciato lo smart contract sulla blog cene è immutabile e non si può fermare un esempio molto semplice che possiamo fare per quanto riguarda la mancanza di terze parti e l'automatismo di uno smart contract è questo esempio molto terra terra supponiamo di avere interagito con una smart contract dove quando noi andiamo a prendere per esempio un treno se questo treno è in ritardo in automatico ci viene rimborsato una parte di biglietto questo automatismo è fantastico perché qualora noi andassimo a prendere il treno e la blog cene se ma gli oracoli che poi andremo a vedere nei prossimi video andasse a individuare che il nostro treno è effettivamente in ritardo in tempo reale si va a verificare lo smart contract si va a verificare la funzione per il quale lo smart contract è stato creato quindi treno in ritardo in automatico ci viene rimborsato sul nostro portafoglio una parte del biglietto e questo automatismo è stato fatto senza che noi andassimo a reclamare un rimborso presso un'agenzia oppresso una biglietteria ferroviaria e questo esempio banale ma importante fa capire che uno smart contract può veramente eliminare un intermediario e fa anche risparmiare parecchio tempo perché noi nell'esempio che ho fatto abbiamo ricevuto al rimborso senza che andassimo a protestare dalla biglietteria abbiamo risparmiato sia noi che altri del tempo o ancora meglio visto che maneggiamo tutti i giorni swap ed ex e interagiamo tutti i giorni con degli smart contract ogni volta che noi su un dex andiamo a effettuare una transazione dove vediamo che ci sono degli automatismi noi stiamo interagendo con degli smart contract quando il nostro meta mask si va a collegare uno swap per autorizzare una transazione noi stiamo interagendo con una smart contract dove ha una determinata azione lo smart conta si attiva effetto ad esempio uno swap gli smart conta per quanto riguarda i tiro vengono lanciati sulle tiri un virtual machine e come abbiamo visto hanno diverse caratteristiche funzionali come appena appunto il risparmio di tempo la trasparenza della blog cene la sicurezza l'immutabilità e l'esenza di truffe lanciati su blog chain o un altro esempio ancora quando noi andiamo a chiedere un prestito su una piattaforma di landy a borro in inserendo come condizione un collaterale noi andiamo a depositare un collaterale lo smart contract rileva il collaterale avvia la condizione per il quale si deve lanciare e deve essere avviato e noi riceviamo sul nostro portafoglio la cifra che abbiamo richiesto in prestito caso lo smart contract funge da algoritmo di fiducia senza un intermediario allo verificare al verificarsi di una determinata condizione ovvero noi abbiamo lo smart contract chiediamo un prestito e la condizione per far sì che si chiude al cerchio e il prestito avvenga dobbiamo depositare un collaterale ad oggi le principali bloccine che eseguono gli smart contract sono ovviamente e tirium cardano polkadot solana elrond o la ormai non più giovanissima neo ma ce ne sono tantissime altre che ormai sviluppano smart contract e permettono la creazione di questi contratti intelligenti ora vi ho nominato le più utilizzate e le più famose